L'Isernia ospita il Giulianova per un altro delicato scontro salvezza. Terna guidata dal signor Nanaciato della sezione di Aprilia. Prosegue la protesta del tifo bianco celeste che diserta le gradinate dove si contano soltanto poche unità. Manto erboso dell'Ancellotta che si presenta in ottime condizioni in seguito ad una collaudata manutenzione nel corso della settimana. Cronaca della partita inaugurata da proteste abruzzesi per questo contatto nei pressi dell'area Pentra su Barla Fante. Nessun provvedimento in questo caso da parte della terna arbitrale. 6,30 del grosso per il Giulianova. Riceve da calcio d'angolo. Si coordina ma mette soltanto i brividi a Del Giudice. Prende coraggio l'Isernia. Schiena lanciato a rete. Uscita Galeotta da parte di Pagliarini. Un frettoloso fra botta. Tenta il colpo della domenica che non va a buon fine. 36esimo è la volta di Romano che dal limite lascia partire un destro. Troppo debole per impensierire il portiere avversario. 0-0 il parziale che manda le due squadre negli spogliatoi. Nella ripresa accade comunque poco. Per un'azione devono trascorrere 20 minuti. Giulianova vicina al vantaggio. Combinazione tra Di Paolo e Gori. Ultimo tocco da parte di Antonelli. Chiuso in corner da Fazio. Al ventiquattresimo il minuto della svolta. Proprio il centrocampista Bianco Celeste con la fascia da capitano. Da fuori segna un gol straordinario. Nulla da fare per Pagliarini. Ed è 1-0 in favore dell'Isernia che ha la chance addirittura di chiudere i giochi. Se non fosse stato per un super Pagliarini che con un miracolo nega la gioia della rete. Al nuovo entrato Petitti. Giulianova che tutto sommato nell'ultimo quarto d'ora non crea grossi grattacapi ai locali. Ad eccezione di questo calcio da fermo di Delgrosso. sventato dalla retroguardia. Finisce con il trionfo Bianco Celeste. Il terzo casalingo consecutivo. Tra l'altro con lo stesso definitivo. Quello di 1-0. Bianco Celesti sempre in piena corsa per la salvezza. Domenica prossima trasferta ad Avezzano per affrontare un'altra diretta concorrente. Cercando di evitare i pasticci di Castelfidardo. Cercando di evitare i pasticci di Castelfidardo.